Allora Andy, siamo e benvenuti, siamo qua, bellissima serata, grande energia tua. Dopo 30 anni torno allo Sporting Club di Monza, dopo il primo concerto della prima formazione, per questa serata è dedicata ai sogni, l'immaginazione vede, quindi immaginiamo una grande cosa su Monza. Ma è un sogno o è un sogno delle basi concrete? Penso che le persone chiamate a partecipare, a costituire questa cosa siano assolutamente concrete. Spero ci sarà la possibilità di metterla a frutto. Io ho ricevuto questo invito e sono a corso, molto volentieri. Ok, vabbè, domanda di rito oramai. Dimmi. Bluertino, futuro? Non ne ho la più pagina. Grazie mille. Ciao.